Buongiorno a tutti, desidero ringraziarvi per l'invito a partecipare al vostro evento, anche se in formato diverso, ma è riuscito comunque a raccogliere personalità, esperti da tutto il mondo. Li saluto con piacere per discutere uno dei temi fondamentali della crescita mondiale europea, il turismo. La crisi del Covid ha avuto e continua ad avere ripercussioni disastrose sulle nostre economie, sui nostri stili di vita, sul turismo, è uno dei settori più colpiti. La pandemia ha imposto dei cambiamenti nei nostri stili di vita e nelle nostre abitudini, ha costretto tutti a fare delle rinunce, a limitare i nostri spostamenti, ma senza spegnere il desiderio, l'esigenza di scoprire posti nuovi, di arricchirci con il nostro patrimonio culturale. In questi mesi gli attori pubblici e privati del settore turistico sono stati obbligati a riconsiderare i servizi offerti, reinventandoli e trovando nuove modalità per rispondere alle esigenze dei consumatori. Il turismo rappresenta una delle maggiori fonti di ricavo dell'Unione Europea nel 2019. L'11,2% dell'occupazione totale europea è dipesa dal turismo, ha contribuito al 9,5% del PIL dell'Unione Europea e secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo entro il 2030 rappresenterà il 41,1% del mercato globale. Il turismo ha un ruolo chiave quindi per la ripresa socio-economica europea, ma non solo. Al Parlamento Europeo siamo consapevoli che al di là di questi numeri ci sono le persone che dobbiamo proteggere le imprese, che dobbiamo promuovere il nostro grande e importante patrimonio culturale che dobbiamo salvaguardare. In questi mesi ci siamo espressi a favore di una vera e propria politica europea del turismo che possa contribuire in modo significativo a rafforzare la competitività dell'Unione in un settore capace di conciliare crescita economica, sviluppo sostenibile, dimensione etica. Abbiamo visto che dopo un inizio disordinato l'Unione è riuscita a coordinarsi su una serie di regole comune tra i nostri vari Stati membri per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti. Un approccio coordinato è naturalmente necessario per un'Unione che sia veramente in grado di rispondere alle esigenze e alle domande di tutti i cittadini. Dobbiamo pensare al turismo in un'ottica multisettoriale, rendendolo un vettore che genera nuova cultura, nuovi interessi e che quindi stimola la domanda. E questo possiamo farlo anche grazie al supporto, all'emergere di nuove tecnologie, alla digitalizzazione e tutto questo naturalmente aiuta ad aumentare l'attrattività del settore turistico e dei viaggi. L'Europa è la prima destinazione turistica al mondo. Dobbiamo collaborare tutti insieme per valorizzare la ricchezza, le diversità dei nostri territori, dei nostri patrimoni. Il turismo è un importante strumento per difendere i nostri valori e promuovere l'interesse per il modello europeo che è il risultato di secoli, di scambi culturali, di diversità linguistica, di creatività. Questa deve essere una sfida per l'Europa, per poter rispondere in modo innovativo ad un mercato sempre più dinamico, in continua evoluzione, che costituirà il centro per le nuove politiche di sviluppo e di crescita per tutta l'Europa. Grazie a tutti, buon lavoro e speriamo presto di poterci incontrare di persona.